la Juve per fare 11 su 11 per scappare in classifica il Milan per riscattare il pesante capo nelle derby per vincere e lanciare un segnale alla lotta Scudetto si gioca a Vinovo il big match Juve-Milan vuole lo spazio per calciare, non c'è allora il soccorso rappresentato da Bergamoschi il cross, in qualche modo salvai poi Adami! Piazza al destro e avanti il Milan dopo due minuti di gioco Palla che rimane lì dopo il rinvio sbagliato di Salvai controllo destro c'è Fischio va Girelli, deviazione Giuliani poi Stascova spinge in porta il gol dell'1-1, l'ha già ripresa la Juve è sfortunata Giuliani rischia la lascia lì e Bonanzea porta avanti la Juve che errore di Giuliani con Giuliani che aspetta troppo tempo prima di servire Arnodotti da Toma torna Bonanzea Toma rallentata riesce ad andare via Barbara Bonanzea Toma in era di rigore toccata calcio di rigore calcio di rigore per il Milan ingenuità di Barbara Bonanzea sembrava aver perso l'attimo buono Toma per andare via e invece va Giacinti per Omagnène para para il rigore si rimane sul 2-1 Juve la solita Pedersen Rosucci sbaglia Fefe a cercare lungo che è molto rapida accelera lungo palla che le rimane un po' indietro poi trova lo spazio per calciare lungo e segna un grande gol la ripresa al Milan con lungo qui accelera Irinen non la tiene palla che le rimane un po' dietro il tocco di Lenzini gliela sistema ma poi è bravissima poi Bonanzea prova a riaccendersi Bonanzea supera la gara Arnadotti il rimpallo Caruso occhio destro che gira nelle intenzioni c'è un tocco con la mano calcio di rigore questo è quello che è successo Caruso e il braccio le mani va Bottin spiazzata Giuliani di nuovo avanti la Juve ha guardato fino all'ultimo Giuliani e poi colpita la Bergamaschi Urtig prende la corsia centrale Urtig vuole andare fino in fondo poi allarga per Bonanzea il cross per Urtig sta scopa è il salvataggio decisivo di Bergamaschi che tiene in vita il Milan a sinistra palla larga per Bonanzea entra in linea di rigore col mancino la perde Giuliani sta scopa non perdona doppietta per lei poker Juve 4 a 2 l'Italia quarto gol al Milan quarto gol della partita della Juve vada Urtig in area di rigore controllo non preciso va sul destro ancora Urtig in scivolata fa ancora male al Milan Manita Juve 5 a 2 rende pisante ancora di più il capò per il Milan l'ultima azione della partita non c'è più tempo ecco la parola fine la Juve in Serie A in Vision è la più forte di tutte non c'è più tempo di più tempo non c'è più tempo non c'è più tempo la parola non c'è più tempo non c'è più tempo non c'è più tempo